si inizia godspeed contro papai ronzo winner final winner final no subito subito come fa voi? vuoi passare? ecco lo zaino dietro grazie occhi guarda me la riporti da tazzino? si si tutto qua dietro stai nel frattempo ragazzi assisteremo un bel jack dragunov qui personaggi mai visti su questa becca c'è da dire duor distribui questo scusate sto bevendo winner final godspeed contro spaperonzolots faccio un attimo il microfono no va bu dai lascio sempre e mi dà cosa tu scusa ma sai cosa che muove? andiamo a sminchiare tutti non è che così allora ragazzi da iniziare la winner final winner final ragazzi un match fra due player di una solidità paurosa eh si FT3 è sempre la winner final si allora winner final allora si inizia da posto si inizia iniziamo entrambi con del poting e dello special va vuoto lo slide di dragunov che comunque riesce a crashare il dv1 con l'uf4 entra con il tackle attenzione attenzione battiat 87 che tifa per Lorenzo grande battiat canterci qualcuno strano nel frattempo il d2 permette a dragunov di portarsi in primo ramo si continua ok allora ragazzi ma per Lorenzo sta facendo un grosso pressing si che non è da lui il suo stile è uuuh attenzione entra tutta la stringa questa famma oh attenzione droppa la combo bravissimo ha skippato la presa dalla spazza dalla feint non riesce ad entrare bravissimo questo è un match quality match non riesce ad entrare un rarissimo miss da parte di Bateronzo e dopo di mhm regge trail attenzione armor si blocca si ferma subito per attenzione 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 ancora prova il medio basso ok e il classico dv1 ancora dv1 qualcosa mi dice che i rando qua finiranno per jack cosa dv1 no per dragon con d2 oppure con un d4 generico perchè allora vedremo schippa la pesano più 2 nel frattempo godspeed tira un sacco di jack per provare a interrottare il gioco di amicinante il rote bronzo si sta riuscendo perfettamente stai intero ti penso a tutti i giochi tutto tutto attenzione però ora regge f ha portato via ha portato via tutta la barra dv1 oh mio dio ah niente dv1 ancora no questo è il funcione attenzione il key charge il key charge il disrespecchio il disrespecchio il disrespecchio che è il primo di che è il primo il primo aaaah è una ragedrive ah ah finzione ragedrive sta a vuoto ooooh mamma mia ooooooh che è il doppio addono ooooh ma donna mia torribile sembrava quasi un double key sembrava c'è praticamente parità assolita ragazzi fai il drive, per attenzione e niente, entra con FF1 quindi 1 a 0 god speed, 1 a 0 god speed mi sa che secondo me va sul cazzo, secondo me oppure no, vedremo il Mishima, oh no, il Mishima ne l'avevo visti per niente attenzione no, David Jin finalmente 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 finalmente, era ora mamma mia come si aprì è proprio quello allora Jack contro Davy Jean c'è da dire che è il primo che si avvicina all'altro qua un match up assurdo si si qua ragazzi che è il miglior 50 e 50 del gioco beh si allora si inizia 1 a 0 per god speed al momento vediamo un po' si inizia con trottola inizio trottola inizio bravo 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 s4 attenzione mamma mia attenzione è perfetto eh uuuu mamma mia 1 1 2 che attenzione sono entrambi senza eri oh ah non schippa la command attenzione 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 oh 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 eh va a vuoto poteva chiudere il round però mamma mia niente ancora questo full crouch niente ancora questo full crouch niente cd3 niente cd3 niente cd1 niente cd1 niente cd2 niente cd2 niente cd2 niente cd2 niente cd2 niente cd2 illy oh sta andando un po'ttensione non riesce a trovare una finestre non riesce a trovare una apertura è un tutto questo oggetto ma avanti covid t0 �2 collett oxen g create peccato bravo bravissima alla soluzione alternativa ar gouvernement Don si dovrebbe semplificare il gioco mamma mia ragazzi questo match col fiato c'è un gioco di momento che c'era ancora vantaggio vantaggio è un bello faccio entrare con l'ultimo colpo della stiglia conversa bene il doppio sfanto elettrico non schifano starter portamuro ma non riesce a scelterizzare rialzo tutta la dubbio da dubbio di calcio questa volta non è riuscita a fare una che c'è già la fine niente ragazzi il frattempo 1 paperonzolo 0 2 rimatch da parte di un pochino fortissimo non è c'è da parte di un pochino si continua subito senza restare il gioco allora ragazzi si continua attenzione ss2 non conosceva rottante il ss2 devono essere meno 20 meno 50 io direi meno milioni entra con la presa standard guarda 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 si abbassa o sei già sei già di fila ragazzi sei continuo riesce a portare queste essenti taglia c'è praticamente attenzione mamma mia attenzione non pulisce df4 df4 attenzione bravo 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 non ci stava per onzolo a non far sentire la tua v4 ff1 ancora ff1 ma madonna che range che range ah bravo attenzione 18 bravissimo 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 non pulisce non pulisce bene madonna entra con l'elettrico ok danno bravo generico di 3 possibile rimonta possibile rimonta beh vito è uno di quelli che fa cambio non riesce non riesce ancora a giacquare perfettamente eh no dovrebbe andare qualcosa di più semplice dovrebbe andare qua probabilmente ha provato ff3 ma attenzione vs14 f4 nuovo setup oh ff1 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 mamma mia pressing asfissiante bravissimo ff2 cf2 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 ff1 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 ancora dovrà aspettare si fara la trottola e alza e ragazzi questa palma le portamuro v3 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 ff1 attenzione ff1 attenzione vito sta dando troppo spazio dame troppo spazio e che per lui adesso match point attenzione quindi vedremo oh bravissimo qua vedremo questo round è praticamente o si o rimane o o niente o sei fuori o sei fuori faccio entra cf2 porta al muro attenzione va vuoto attenzione attenzione peccato e godspeed è uno dei due finalisti di questa tappa dell'etl v3 v3 v3